Buon pomeriggio a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video oggi parleremo nuovamente del grande fratello ma in modo particolare di Wenda Goria che pare abbia visto un fantasma nella casa del grande fratello Viv ma vediamo cosa è successo proprio ieri notte diciamo che quest'anno nella casa del grande fratello ne succedono di ogni tipo e pare che proprio ieri Wenda dopo una giornata trascorsa a guardare i numerosi aerei arrivati il loro sostegno gli inquilini ci sono stati un po' in disparte all'improvviso però Wenda era assente nei suoi pensieri così Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando le hanno chiesto cosa stava succedendo e lei ha risposto niente sono su un altro pianeta, un pianeta extrasensoriale dice Wenda visualizzo delle figure accanto a voi in particolare poi si rivolge proprio a Elisabetta Gregoraci che si è messa a paura e gli dice così vedo una donna mora vestita di nero con un velo nero anziana vabbè lasciamo perdere poi rivolgendosi sempre a Elisabetta le parole di Wenda ragazzi però non hanno lasciato indifferente l'ex moglie di Imbreatore e nemmeno il web che ha ravvisato nella sua descrizione proprio la mamma di Elisabetta Gregoraci che è venuta a mancare qualche tempo fa inoltre sua madre Maria Teresa Ruta ha precisato che non è la prima volta che Wenda abbia queste sensazioni extrasensoriali e diciamo che questa cosa ha messo un po' di scompiglio nella casa del grande fratello Vip voi che cosa ne pensate? scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un pollice di supporto se il video vi è piaciuto e vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video